Dianna è cieca, per questo è esposta a mille rischi ogni momento. Dianna deve essere operata subito da un medico CBM. Nei paesi del sud del mondo, essere ciechi significa vivere in pericolo ogni giorno a causa di incidenti, maltrattamenti e abusi. Fermiamo la cecità. Insieme è possibile. Tu puoi salvare Dianna e tanti bambini come lei. Manda subito un SMS al 45 545. Grazie a tutti.